Sto arrivando! Sei ancora in vita! Non mollare adesso! Granata, via da qui! Vieni qua a terra! Ti salvo io! Anche a me non serve copertura. Sblocchiamo il nemico! Tracking up forigo! Lo stato perigo! Granata, tutta per loro! Abbiamo quasi superato le loro ultime difese! Ci resta il 50% delle risorse! Nemico distinziano! Esplosivi pronti! Sto lanciando una granata! Excellente! Arrò! Arrò! Sto lanciando! Sto lanciando un giro! Adesso! Grazie a tutti. I russi si ritirano dall'area. Abbiamo conquistato la zona. Ottimo lavoro. Grazie a tutti.